La natura non è un posto da visitare, è casa nostra. Questa citazione rispecchia in pieno la mia visione del mondo. Madre Natura ci ha creato in maniera perfetta ed è così anche per i nostri capelli. Non esiste un capello distonico, tutto dipende dal modo in cui noi lo trattiamo. La mia passione per i capelli è nata con me. Fare la parrucchiera era il mestiere di mia madre ed io accanto a lei lo facevo con le mie bambole. Toccare i capelli per me è una forma di meditazione, mi immergo in uno stato di grazia e dimentico tutto il resto. Divento un capello e guardo il mondo dal suo punto di vista. È con questo spirito che svolgo la mia attività affinché le persone apprezzino e comprendano la natura dei loro capelli. In fondo sono come le piante, vanno coltivati, curati, nutriti e amati. Il lavoro che svolgo sui miei clienti è tutto rivolto ad interpretare le loro caratteristiche. Perché come natura insegna non esiste un volto uguale all'altro. Ognuno ha una sua unicità. E la mia missione è quella di portarla alla luce. Gli occhi riconoscono sempre ciò che è giusto per loro. Sono Milena Bartolini, ma non chiamatemi parrucchiera. Mi sento più che altro una coltivatrice di capelli.